Monta la protesta in pieno centro-sodico Gela a seguito della mancanza d'acqua. Residenti e commercianti sono arrabbiati ed indignati, usiamo è chiaro, degli eufemismi. Sono costretti a ricorrere alle autobotti, una vera e propria mazzata, pochi giorni dalle festività natalizie. Rubinetti a secco, proprio ora nel momento in cui si registra un'affluenza di clienti, un tantino sopra la norma considerato che, come dicevamo, siamo entrati nelle settimane che anticipano il Natale e dunque ci si organizza per l'acquisto dei regali. Da almeno 10 giorni che non arriva acqua, addirittura già un paio di giorni che chiamiamo l'autobotte perché se no non possiamo lavorare. Ma ci stiamo penalizzando, pagare autobotte ogni giorno non è una cosa normale. Io ho provato ad andare a Cartacqua, Cartacqua mi ha dato il numero verde, dice che il numero verde dovrebbe essere quello che dovrebbe cercare di risolvere i problemi, ma quando sempre i problemi non si stanno risolvendo. Io parlo dei miei, ma ho visto anche gli altri che hanno dei autobotti che arrivano dovunque, però nessuno si sta lamentando, forse io come bar ne consumo più di tanta, perciò io ho problemi. Io parlo a nome di tutti, dico ma come si fa a risolvere questo problema? Siamo a un periodo di feste e il Comune ci dovrebbe un po' aiutare, però quando sempre ho fatto anche una telefonata al Comune e il Comune mi ha detto che dovrebbe risolverlo, ma non si risolve niente. Qualche settimana dietro, Cartacqua, la società che gestisce il servizio idrico in provincia, aveva annunciato la distribuzione di urna nella zona centrale della città per evitare le nottate ai cittadini residenti, ma l'acqua non arriva né di giorno né di notte. Avendo i serbatoi io normalmente non ho mai avuto problemi, io penso che manca anche di più una settimana, si parlava anche di 15 giorni, però io penso che almeno più di 10 giorni. Ogni mattina ci stiamo penalizzando pagando l'autobot, io penso che così noi chiuderemo.